In che lingua facciamo? Inglese? Sì. Ok, meglio. Quindi, come per oggi? C'è una buona condizione? Sì, nel mattino il traccio era un po' freddo quindi era bene. E poi nella seconda pratica ho avuto un problema con le condizioni quindi stavamo pensando cosa stavamo fare. E poi nella ultima pratica non abbiamo un risultato ma abbiamo lavorato per farlo per fare un buon risultato quindi ho finito la seconda. Stavamo pensando alla competizione o non pensi alla competizione? Stavamo concentrati a fare la competizione e poi vediamo la competizione. Stavamo vedere cosa Karol, Tom e Pedro stanno facendo o non? Sì, un po' come posizioni stanno facendo nella competizione. Ok, grazie.